Cicciarini Nell'angolo il numero 31 Olisevicius Ci prova Trento ora con Atkins Da tre punti, pallone servito da Flaccadori Non trova il canestro il numero 44 Corre Cicciarini dall'altra parte Della squadra di Emolin Il pallone va da Atkins Dal mezzo angolo Il tiro del numero 5 Rimbalzo in attacco per Olisevicius